Amici di Bella Sicilia, adesso vi presentiamo la pasta reale colorata. Andremo a realizzare i limoni, che li chiamano molto la nostra terra, la nostra Sicilia. E qui vediamo tantissimi altri dolci con tante altre forme. Pure la grintola, la rianna, simbolo di Castel di Luce, perché ci troviamo in questo bellissimo popolo siciliano. In provincia di Messina, e queste sono una delle specialità locali, sono i cosidugi, così li chiamiamo. Sì, i cosidugi. In questa categoria rientrano tutti i dolci della tradizione. Sì, esattamente. Cosa facciamo adesso? Le foglioline. Di giallo. Questo è l'impasto utilizzato per la pasta reale. Sì, mandorle e zucchero. Quindi farina di mandorle e zucchero. Non farina, mandorle ridotte in farina e zucchero a velo. E un po' di acqua. E un po' di acqua per l'impasto. Quindi questi semplici ingredienti per realizzare poi i dolcetti speciali, che accompagnavano tutte le feste una volta. Non c'era matrimonio, non c'era ricorrenza. Non c'era occasione senza la pasta reale. E venivano fatti in casa sempre una volta questi dolcetti. Sempre, sempre in casa. E oggi lei ha deciso di continuare la tradizione e di farlo in maniera professionale. Sì. ecco qua sui due. Ma come si impara quest'arte? Con tanta fatica, tanta pazienza? Pazienza se si ha la passione, la pazienza non serve. Ho provato, ho riprovato tante volte fino ad arrivare a realizzare queste che possiamo definire veramente le opere d'arte. È un peccato mangiarli perché sono così belli. Quindi si possono consumare sia così a crudo, sia crudo che cotto. Nella versione cotta si mette il biscotto sotto. Sì, è una base di prolla. Quanti minuti di cottura? All'incirca una decina di minuti a 180 gradi. Oggi devi continuare a realizzare quindi questi dolci, lo fa tutte le giornate, tutto l'anno? Tutto l'anno. Ogni occasione è buona per degustarlo. Quindi non si è persa la tradizione? No. Ma ci sarà anche una giornata speciale per gustarli in piazza? Sì, sabato 19 ottobre alle 19. Ci saranno i corsi ci saranno questi dolci, ma ci sarà tanto altro, vero? Sì, sì, sì. Ci sarà la possibilità di gustarli e poi di concludere la serata con un evento particolare. Ci sarà Giuseppe Castiglia, quindi lanciamo a tutti l'invito di venire qui a Castel di Lucio per gustarli. Gli aspettiamo innumerosi. Intanto la nostra pasta è quasi pronta? Quasi pronta. Cosa stiamo facendo adesso? Il fiorellino. Ok. Mettiamo un chiodo di garofano. E lo andiamo a posizionare qui. I limoni sono pronti. Complimenti signora Luna. Bellissimi e buonissimi. Lo dedichiamo a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV che ci seguono da tutto il mondo e speriamo di poterli vedere in questo borgo non solo per il 19 di ottobre, ma ogni giorno dell'anno è ideale per visitare i piccoli borghi, per vivere delle esperienze diverse e per gustare i tanti prodotti tipici. Tipici della nostra. Sono veramente tanti a Castel di Lucio. Sì, sì. E le ricette antiche sono proseguite, sono rimaste intatte. Sì, la maggior parte sono tutti proprio appunto a base di mandorla, perché con la mandorla si può fare qui tutto. E lei ha deciso di trasformare la sua passione in lavoro. Sì, esatto. Per continuare a vivere in questo borgo, nella nostra bella Sicilia. Esattamente. Che invito lanciamo ai giovani che ci stanno seguendo, di scommettere sulle proprie scelte, sulle proprie passioni? Di seguire sempre la propria passione. Grazie a tutti.